Bene, stiamo per finire la fase di crociera del nostro volo. Andiamo a vedere un attimo anche sul radar per renderci conto. Nel video precedente ci siamo lasciati dopo il decollo ancora in fase di salita, più o meno qui. Poco dopo avevamo raggiunto il top of climb, cioè il punto dal quale finiva la fase di salita e iniziava la fase di crociera. Dopodiché abbiamo fatto finta che il volo fosse proseguito senza intoppi, condizioni meteorologiche ideali, di traffico nullo, beh insomma stiamo volando ovviamente offline e virtuale, quindi possiamo fare un pochino quello che vogliamo e anche per non complicarci troppo la vita. E stiamo per raggiungere tra poco il top of descent. Siamo abbastanza vicini, credo circa una settantina di miglia, anzi lo possiamo anche misurare con il programma, vediamo un pochino, infatti 71 miglia, circa 71 miglia dalla destinazione. Bene adesso abbiamo visto dove siamo, io ho preventivamente messo il simulatore di volo in pausa appunto per vedere un paio di cose con calma. Intanto sul navigation display possiamo vedere la nostra posizione diciamo così reale rispetto alla rosa dei venti, quindi il nord si trova, beh più o meno si trova dovunque, dovrebbe trovarsi più o meno qui, anzi dietro di noi, ecco qui dove sto segnando io in questo momento, e se io faccio, se facciamo un ingrandimento, ecco vediamo, anzi meglio ingrandire ancora, così si vede meglio, ecco si vede sulla linea magenta il famoso TD, top of descent, il punto dal quale inizia la discesa programmata dal computer. Questo punto è molto importante perché noi l'unica cosa che dobbiamo fare prima di arrivare al top of descent è inserire l'altitudine prevista dalle carte di volo per poter entrare diciamo nel cono d'azione nella frequenza del localizzatore di Venezia, che secondo le carte nautiche è appunto a 2.500 piedi. Allora per fare questo semplicemente, vediamo se riusciamo a fare una zoomatina, se ne riesce, andiamo semplicemente sul pannello dell'autopilota e con il selettore dell'altitudine selezioniamo 2.500 piedi. 2.500 piedi. questa è una cosa molto importante, sia ovviamente selezionare l'altitudine esatta, ma anche il momento in cui noi dobbiamo fare questa azione è molto importante, cioè prima di arrivare, attenzione, prima di arrivare al top of descent. Quindi adesso diciamo ho fatto le cose un po' comode e diciamo sono arrivato molto molto vicino al top of descent, pericolosamente potrei anche dire, questo ovviamente è meglio evitare, è meglio farlo veramente prima, anche un 20, 25, 30 miglia prima, tanto non ha nessuna importanza, fin tanto che l'aereo non arriverà sul top of descent rimarrà sempre sulla altitudine alla quale si trova nel nostro caso, quindi 30.000. Ecco io avrei potuto mettere, selettare 2.500 piedi già molto molto prima, ma noi non avremmo assolutamente cambiato l'aereo non si sarebbe immediatamente indirizzato ai 2.500, appunto perché? Perché se il piano di volo prevede che questo succeda esattamente sul top of descent. Ecco se ci dimentichiamo invece di selettare l'altitudine giusta da raggiungere sul localizzatore dopo il top of descent, beh lo possiamo anche fare, però corriamo il rischio che l'aereo debba per raggiungere per raggiungere questi 2.500 piedi, corra il rischio di dover ovviamente velocizzare la discesa, quindi aumentare l'angolo di attacco negativo, andare giù quasi in picchiata e questo ovviamente al di là di un certo limite è praticamente impossibile, perché l'aereo non riuscirebbe più a raggiungere 2.500 piedi e se li raggiungesse le raggiungerebbe ad una velocità incredibile, perché non saremmo più in grado, le strumentazioni, la dinamica dell'aereo non sarebbe più in grado di frenare l'aereo alla velocità desiderata, appunto perché l'aereo sta scendendo. Bene, abbiamo fatto questo cambiamento che è importantissimo, un'altra cosa che si può fare già adesso, io l'ho già fatta prima, eccolo qui sul quadro delle frequenze, inserire la frequenza del localizzatore dell'ILS di Venezia che è 109.95 sia sul nav panel, del pilota, del capitano sia sul pannello del copilota, dopodiché, cosa che ripeto avevo già fatto prima, dopodiché lo mettiamo, lo attiviamo sia a destra che a sinistra e vedete che sul display dell'orizzonte artificiale è apparsa la frequenza 109.05 e l'orientamento 0.041 gradi che avevamo, che abbiamo, che avevo poco prima già inserito sul pannello dell'autopilota sia, cioè come course praticamente, sia a destra sul capitano che a sinistra sulla postazione del copilota, dunque la frequenza, ecco, volendo fare una cosa così per ancora maggiore sicurezza, andiamo a vedere una cosa, scusate, questa tosse che mi sta veramente dilaniando, andiamo a vedere, prendiamoci un punto di riferimento, per esempio, per esempio, potremmo prendere come punto di riferimento, vediamo un pochino l'NDB, prendiamo l'NDB di Padova, il non-directional piccon, con frequenza 3, 3, 2, decimali 0 e andiamo ad inserire questa frequenza nel pannello delle frequenze, e cioè qui sotto, eccolo qui, vedete, questo è praticamente la frequenza dell'NDB che si trova a terra, che abbiamo visto poco fa, 3, 3, accipicchia, l'ho già dimenticata, 3, 3, 2, quindi dobbiamo inserire soltanto il 2 alla fine, allora vediamo se ci riesco, perfetto, ecco qui, dopodiché lo mettiamo attivo, questo non so come funziona, probabilmente perché siamo sul pannello 3D, comunque lo faremo fra breve, basta, dopodiché vediamo un pochino, no, non è ancora, questa frequenza praticamente appena l'aero arriverà a una distanza sufficientemente vicina al NDB e la strumentazione di bordo riuscirà a captare il segnale, questo ago, anzi possiamo metterlo, no, proprio sul pannello 3D probabilmente non funziona, vediamo se funziona su quello bidimensionale, ecco qui funziona, perfetto, torniamo indietro, dicevo quando raggiungeremo la distanza sufficiente l'ago si sposterà e indicherà e si porterà ad indicare praticamente l'NDB stesso di Padova, lo vedremo penso fra poco e questo ci darà semplicemente, diciamo, un parametro supplementare nel caso, ripeto, nel caso altri strumenti dovessero dare forfeci, dovessero dare, ci dovessero essere dei guasti, noi potremmo sempre orientarci, perlomeno provvisoriamente guardando l'ago del ADF. Bene, a questo punto io toglierei la pausa dal simulatore di volo, ecco adesso stiamo di nuovo volando e appunto ho dimenticato una cosa che comunque vedremo fra pochissimo sul pannello, sul navigation display, quando raggiungeremo, quando l'aereo raggiungerà il top of descent e lo supererà, ma nel momento stesso in cui lo raggiungeremo, vedremo apparire qui sulla destra del display una nuova immagine e la commenteremo comunque, la commenteremo comunque fra breve quando apparirà perché sarà anche più facile per me spiegarla, quindi adesso metto un attimo in pausa la registrazione e ci rivediamo fra un attimo. Ecco, esattamente in questo momento l'aereo ha raggiunto il top of descent che è scomparso dal display e nello stesso momento è apparsa quella famosa immagine di cui vi dicevo. Questa immagine rappresenta praticamente l'indice di scostamento, si chiama l'indice di scostamento, cioè di quanto l'aereo è scostato verticalmente rispetto alla linea di discesa ottimale che è rappresentata da questo diamantino magenta. L'aereo invece è rappresentato da questa linea orizzontale bianca, in questo momento quindi l'aereo si trova esattamente sulla linea di discesa. Ovviamente stiamo cominciando a scendere, infatti vedete che il variometro segna circa 2000 piedi al minuto in discesa e bene, quindi la situazione direi che è assolutamente normale, il volo sta seguendo il suo corso come previsto e calcolato dal CDU, dal computer di bordo. Adesso l'unica cosa durante questa fase di discesa che dobbiamo tenere sotto controllo è sempre la velocità, ci sono sempre altri parametri che potrebbero influire. La velocità è sempre controllata dalle strumentazioni di bordo, ma per diversi motivi ci possono essere anche degli scostamenti, soprattutto per motivi meteorologici, se la velocità dovesse schizzare troppo verso l'alto, allora noi dovremmo praticamente agire con i speed break, dare qualche tacca di speed break e controllare sempre che la velocità ritorni sul parametro previsto. vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo dire, vediamo un pochino, qui è troppo piccolo, non lo vedo neanch'io quasi, vediamo un pochino cosa, se c'è qualcosa di interessante. Qui siamo ovviamente sul display della discesa, no direi che ecco l'unica cosa che possiamo già fare adesso, ma perché siamo ovviamente perché siamo offline, non abbiamo nessun tipo di controllo a terra che ci dice quello che dobbiamo fare, adesso decidiamo noi, ripeto, decidiamo noi perché siamo soli, perché stiamo volando offline, nessuno ci dice nulla e quindi la cosa la possiamo fare. Viceversa se volassimo con una copertura ATC o una torre, allora dovremmo sempre aspettare gli ordini della torre, dell'ATC, oppure chiedere alla torre se accettano una nostra